ciao a tutti belli e brutti ben ritrovati qui sul canale di gamers in una certa maniera io sono madridgamer e siamo pronti dopo aver scoperto che la signorina bronia è una undergrounders e abbiamo recuperato l'alcol e un'altra cosa che adesso non mi ricordo onestamente siamo arrivati anche all'orfanotrofio dove ovviamente non si può entrare magari dopo si potrà entrare però queste due stanno facendo un attimo di tuffo nei ricordi noi andiamo a vedere cosa c'è da questa parte ok Perkins Oh I mean no arm Uh Perkins Oh Oh E3 questo è pericoloso, dovresti lasciarci mi sembrava di medici, non è pericoloso oh, io venivo qui per questi painkillers anche ci sono molte persone che scusano nel camp di vagrant credo che i minorsi non sono più diversi se tutti potessi scegliere, le cose sarebbero più facile qui sei? spero che la medicina sia di aiuto è di aiuto oh è mia famiglia ho conosciuto a M. Sparag quando ero davvero piccola mi prende e mi prende mi prende mi sono davvero scusata mi prende e mi prende mi prende e mi prende mi prende e mi prende mi prende mi prende mi prende Mr. Svarag is very stubborn, he says that his responsibility is preservation. To do that, he must make decisions that best protect humanity. The fragmento will swallow up all the underground sora later. I know that Wildfire wants to talk to Mr. Svarag, but no matter how many times you talk to him, Mr. Svarag won't change his mind. So please trust me, I'll try to persuade Mr. Svarag. Hopefully one day he'll finally know. Clara, what are you doing here? You're... Miss Zila from Wildfire. I came here to... Ah, okay. Why are you helping the Vagrants look for medicine? If they're so great, how could they make a little girl go around running- N-No, it's not like that. I wasn't made to do anything. It's just that the living conditions for the Vagrants aren't great. There's not even a clinic in their camp. So, also, not all of them are bad people. Everyone just wants to survive. Ah, Miss Zila? Did this medicine belong to Miss Natasha? Then... Can you give me some? The Vagrant's injuries are quite serious. I see. R-Really? We don't need to ask... If I know Nat, she won't mind. Although, this will make it more difficult. Great! Thank you, Miss Zila. Are you leaving? This old town is too dangerous. We'll accompany you part of the way. It's fine. I have Perkins for company. And... I have some more things I need to look for here for me. I'm... 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 What are you looking for? Let's talk about... What are they waiting for? Metal plates and bandages... Rubbing alcohol... Pain killers... Great! Let's go report to Natasha in Boulder Town. Non ci prenderà molto tempo per tornare. CLEAR MEMORY STAGE 1 OF THE FORGOTEN ALM, ACTIVATE OR LELEC, CHARACTERIST 12 TIMES, COMPLETE LEBINATION, TWO ROADS OF THE PERIOR, JUST ONE ITEM IN, WITH SHIELD, OPEN FOR THE TREASURE, OKAY, PLEASE COMPLETE TRIAL OF EQUILIBRIUM, Non so cosa sia TRIAL OF EQUILIBRIUM, HAHAHA ... 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 Spera che non è il tipo di svergione. Ti capisco quando si arrivano al suo territorio. Ci cose non si fanno così. E che cosa di te, Miss Silvermane? Sei l'unica qui non è compilato a fare o non si muere con Sfarag. Io vorrei ascoltare la tua... Sfarag è ancora un parte di Bela Bok. Se la Sfarag è una esistente di un lato a la gente qui, io avrò di sicuramente stando... Ha 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 ha, excellent. An enlightened dancer, young lady. And spoken like a... Seeing as we're all on the same side, there's no reason to delay. Let's go. I've arranged for a guide to take. Wildfire's relationship with Sfarag has been hostile for a long time now. Accompanying you would only lead to misunderstandings. We'll be nearby, awaiting orders. If things go south, we'll be there in no time. Zeela, perhaps you can take our outsider friends the rest of the way. I'm on it, boss. And if I don't? My hero, finally got all of you. You must save me. Please remind me, I'm begging you. It's life and death. Eh? When you have a second, meet me at the Great Mine. My available patron. Every second matter. My life is on your hands. Trial of Eglivrium. Go to the Robo Sediment and complete a trial of Eglivrium. I can't call himself the Arbitrator gave you a trial. According to its vagabond convinced declaration, you will meet stronger forward but receive better rewards in the future by passing the trial. This doesn't seem to be a bad thing. Hello, hello, anyone. How do you use this thing? Stand on? What's that supposed to mean? Allow me to kill you to die. This is the money transfer. Hello, TV. What's that supposed to mean? What? Okay. Slice of life. Slice of life. Okay. I'm referring to the second mission. Slice of life. Oh, da vera. Ah, mi sa che ha ricevuto, eh, infatti. Ha ricevuto l'Eidolons. Tiè. Ti va. After being attacked, it heals itself for one time. Okay. non ho capito, non ho capito bene, ma va bene così. Continuiamo. Avrete visto un piccolo taglio perché ho dovuto rispondere al telefono. Praticamente, quindi ho dovuto fare un taglio. Come si arriva lì? Vediamo la mappa. Così. Antonia. Oh, è sta calma, mamma mia. Arrabbiatissimo. Don't you need to supervise, the miner is supervise or make a lot of money, right? Team leaders are responsible for supervising. Ah, ok. I said, no, I know nothing of mining cards. I know just a man for this job, his name is Sample. Ok. Non so cosa devo fare, però faccio niente. Va bene. Un'altra missione. Vero, dovrebbe farmi vedere. Strano, però. Non me l'ha fatta vedere. It's... No, It's don't.. Perchè un schiacciato? Ciao, Hook! Ok I got my way around the outside and picked up more than a few clues Grande sample! Let's hope you can walk the talk Oleg put his trust in new clues for your own shady dealings, no doubt Hey, what are you trying to say? Find me someone above or below ground that walks the dog Like Sempo Koski My legacy will prove that Sempo Koski was nothing but a willing Oh, enough! Geez, we believe you, ok? Oh, stay away already Sempo Koski Oh, Sempo, are we there yet? Eh, new zone? Eh, roble set, my dear Che bella sta mappa, bellissima Mi piace proprio lo stile in cui è fatta Ok Ok Robo, senza me Missy Two more steps, just two more steps in a bit Missy Prendi questo Is this the Svarog's lair? I thought it would be cool Many vagrantes are staying here temporarily Their homes were overrun by monsters Isn't it dangerous for them to make camp right under Svarog's metal? No Svarog may be ruthless, but he never attacks without reason For those with no home This is actually safe No? If I hadn't moved away when I did I'd probably be where they're Aspetta però che No Vale tutto Però Ah Facciamo un quick setup Eh Facciamo tornare lei Cioè lei il capo del gruppo Il personaggio principale è lei quindi Non si può parlare con nessun Ah, lì, c'è un rastro Reticent vagrant Devoted vagrant Alas This place is a bit of a mixed bag Did you see those extra boxes of medical supplies? Clara, I assume Who's Clara? Clara Not even Family Well, you'll understand Mmm, mi sa che c'è strana da farsi La battaglia con Svarog A un certo punto Svarog Mi fai in mente il nome di un formaggio So, magari non lo conoscete però Io vivo in Polonia E qui in Polonia c'è un formaggio che si chiama Svarog Ok E' scritto con la tia E' tsssvarog Una roba del genere Non so nemmeno come si pronuncia esattamente Però Ernest Ernest vagrant Suspicious vagrant You're just really salty, my friend My friend Un bel giro Sì, ci prendiamo quello che c'è da prendere Rapper La combustione interna e la luce di luna di assidio Pfff Va bene, ok Convinto tu Rauh Quella zona lì abbiamo... Oh, un gentaglia Isto è rotto Facciamo prima il collect Yo 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 Sì 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 No Mi sa di no Mi sa che ho fatto tutto Ok, si arriva da qui, no? Sì Guardate da qui Andate qui No E siamo ok, andate qui Qui non c'era nulla Cioè l'abbiamo già preso Qui ha fatto cose Qui bla 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 Ok Abbiamo fatto il giro Bene, andiamo ad aprire la porta va E apriamo la porta che è giustamente da qui Oh, no Sembra di no Oh, andate Complimenti Di cosa È un passato immaginari Password che i bambini Compensi Non credo che sarà più di importante A l'ho passato party ечato Qu'è questo? I don't'essi Aspetta Ciamata Ah, ok. Ah, ok. No, 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 no. Si sembra che la gente qui... ... 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 Questo deve essere uno di loro, certo? Si sembrava così... Si è even awake in there? Protocol... Initiating... Certificazione... Failure... Subject has yet to... Launching Stage 1 Processing... Please listen to the... Who is the reigning champion of the... Internal Combustion... Engine Wrap Tournament... Infernal Construction what now? How would we know... Sampo... Do you know the answer? Sampo Kaski always does the... Wait... What did it say again? Aren't you supposed to... Well I don't know everything... Sometimes you gotta ask around if you want to know the answer... Don't panic... Let's listen in to what the vagrants are talking about... Please answer the following question... Who is the reigning champion of the internal Combustion Engine Wrap Tournament? Uhhhh... Correct answer... Wow... Was that an aftercast? Did you go to a music festival without us? Che deficiente che è... March 7... Certification... Success... Please extend your... My right hand? Here you go... Why is this part of the... Oh... Hey... So this is the... Great... Only two more steps to go... Let's move... Oh... Andata di culo... Andata di culo perché ho... Passando mentre facciamo il giro a prendere i cosi ho sentito questo qui... Tipo qui no... Questi qua mi sa che erano... Eh... 88 degrees bedrock... Questo... Non l'ho visto... Ok... Già... Vediamo la seconda... Bip bop... Ok... What does bugger bolt say? Uh... Let's get this over with... Did you get your... Certification? If... You mean this? This... Here... Here... Yeah... Yeah... Whatever... Here comes the question... What'll be this? A microcrystalline should be connected... Which component? What? A... Microcrystalline unit? You don't know the answer? That's... Oh... No... 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 You can't insert the microcrystalline unit into the heat sink substrate like that... Ok... Ok... Balaway from Miner's Lamp said that you want to make this thing move again... We need to connect the microcrystalline unit to the operating brake module... If you believe a word that senile idiot Balaway says... You're done for! The last you should be asking people with real smarts... No one is... I saw him connecting a microcrystalline... Logic control... Ok... Ah... Proviamo to... With logic control... Yeah... 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 What if... Riddle me this? Huh? Lucky... Lucky guess... Huh? Me again? Huh? There... One step left... Get out of here and leave me in peace... Haha... Haha... Vediamo la domanda... Whatever the case... We'll need it... Hmm... There's something wrong with it... Ecco appunto... Protocol... Init... Initialization... Failure... Not encourage... System restoration... Failure... Core module damage... External threat elimination... Activated... Initialized... What? Ah... Ok... Dobbiamo menarlo... Haha... Ok... Meniamoli... Che dobbiamo fa' Ciao... No... Non è morto... Non sono forti? 23... Ostia... Si... Cioè... Non è che... Sono fortissimi però... Potrebbero far male... Allora... Facciamo... Una bel defense... 638... Yeah... Me out here... How can we lose? Me out here... How can we lose? Gotta try hard sometimes... Gotta try hard sometimes... Vabbè... Almeno uno ci schiatta... Oh... Si sono ghiacciati... Ottimo... Che l'ha esploso... E andiamo di... Di... Di legnata normale... Boom... Adesso è sulla barriera... Quell'altro maledetto... Eh... Infatti... Che rompiballe... Ah... 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 Boom... Saluti... Mi dai il certificato? Eh... Llearni come si comporta ora? Ah... Dimenticate di resettare il sistema di certificazione online... Ah... Perché non è... Ah... Ah... Come si fa male ancora più di me? Noi possiamo andare ora, certo? Eh... Eh... Faro... Ah... Buon lavoro... continua la storia di Onkai Star Rail. Bene ragazzi, vi saluto e ci vediamo alla prossima puntata. Ciao one!